Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la quarta classe. Draghi ucenizi, i draghi ucenizze, dobrodošli nasat taliansko ghesika, zacetverti rasret. Il tema di oggi è il mercato del lavoro. Danasnia tema je tergisterata. Io sono Rocco Barisi e oggi sono il vostro insegnante. Nakon ove lekcije moći ćete razumieti srednje dugi i srednje složen tekst o tržistu rada i zanimanjima budućnosti. Moći ćete napisati kratak tekst o svom budućem zanimanju. Razumieti kratak tekst o glasa i raslikovati odnose i smegiuglavne i zabisne recenize. Per la lezione di oggi vi servono un dizionario, un quaderno, una matita, una penna, un cellulare e una connessione internet. Il mercato del lavoro. Che strada scegliere? Per prima cosa bisogna avere un CV, curriculum vitae, da inviare al possibile datore di lavoro. Ecco un esempio. Qui, a pagina intera e nel dettaglio, potete vedere come si presenta un curriculum vitae. Attività 1. Compilate il vostro CV In base all'esempio proposto, provate a compilare un nuovo CV con le vostre informazioni. Potete anche inventare qualcosa. Per facilitare il lavoro troverete anche un modello da compilare in croato. Potete aprire i documenti con il link o scansionando il codice QR. Ma su quali canali bisogna puntare per cercare lavoro in modo efficace? È sufficiente caricare il curriculum online o creare un profilo su LinkedIn? Siti, contatti diretti e relazioni personali, agenzie per il lavoro, passaparola, social network, sono solo alcuni degli strumenti utili per cogliere tutte le opportunità. Cosa ci occorre per cercare lavoro? Fare ricerche è un buon modo per iniziare. È necessario migliorare e aggiornare il curriculum. Bisogna mettere in evidenza le competenze digitali. Valutare i settori in crescita e quelli che assumono di più. Informarsi costantemente. Usare al meglio i social network. Come cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni? Quali saranno le professioni più richieste? Ci sono stati grandi cambiamenti che hanno rivoluzionato il mondo del lavoro, ma anche quello della formazione e dei rapporti sociali. La didattica a distanza e lo smart working ci fanno capire quanto, nei prossimi anni, queste modalità di apprendimento e di lavoro potrebbero essere realmente adottate nella nostra vita quotidiana. Di seguito una lista delle nuove professioni più richieste costruita sulla base dei futuri trend del mercato del lavoro. Energy Manager In questo periodo che è segnato dal cambiamento climatico e da un eccessivo consumo di materie prime, la figura dell'Energy Manager diventa essenziale per le imprese che vogliono ottimizzare il consumo di energia e diminuire i costi. Sviluppatore App Lo sviluppatore di App Mobile si occupa di scrivere codici per la realizzazione di applicazioni, social, giochi, messaggistica, per dispositivi mobili come smartphone e tablet. E-commerce Manager Il suo compito è di gestire il negozio online del cliente con l'obiettivo di aumentare le vendite. Dovrà anche occuparsi di organizzare la campagna di promozione sui social network e intervenire in caso i dati sulle vendite non ottengono i risultati aspettati. Social Media Manager Il social media manager ha il compito di gestire la comunicazione del brand sui social network. Un compito per niente facile perché bisogna essere sempre aggiornati sui trend del momento e creare contenuti accattivanti in base al target di riferimento e alla piattaforma scelta per pubblicare i contenuti. Progettista 3D Questo professionista è in grado di accorciare le distanze tra il consumatore e l'esperienza di un prodotto. Con le sue abilità può realizzare un modello tridimensionale del prodotto di un brand da utilizzare nelle campagne pubblicitare o nelle schede prodotto degli e-commerce per permettere al potenziale cliente di osservare tutte le caratteristiche dell'articolo. SEO Search Engine Optimization Specialist Il compito del SEO Specialist è di far apparire il sito o alcune pagine del sito del cliente tra i primi risultati di ricerca perché sono quelli più cliccati. Big Data Developer Molto spesso oggi si sente parlare di Big Data Ma di cosa si tratta realmente? Sono una raccolta di grandi quantità di dati usati per analizzare diversi aspetti soddisfazione dei clienti, aspettative sui nuovi prodotti, feedback sul prodotto, servizio, ecc. Il compito del Big Data Developer è appunto quello di sviluppare tool, soluzioni e processi per immagazzinare, analizzare e trasformare questi dati. Web Developer Il Web Developer si occupa della realizzazione dei siti web dei clienti, gestisce la fase di realizzazione dei progetti fino alla realizzazione del prodotto finale. Blockchain Developer Il sistema Blockchain permette uno scambio di dati sicuro e protetto perché criptato. Proprio per questa caratteristica, molte aziende stanno utilizzando la Blockchain in particolare per la tracciabilità dei prodotti e gli acquisti online. Le previsioni per i prossimi anni mostrano che queste nuove professioni saranno quelle più richieste perché andranno a soddisfare la necessità di sviluppo delle nuove tecnologie e delle nuove abitudini dei consumatori. Attività 2 Attività 2 Scrivete un testo riguardante la scelta del lavoro. Le seguenti domande possono aiutarvi. Usate 60-80 parole. Hai già pensato al tuo lavoro ideale? Tra i nuove lavori del futuro proposti, quale ti piacerebbe fare? Ecco un esempio. Non ho ancora le idee chiare. Direi di essere bravo in matematica e fisica. Per questo sarei sicuro che per me esistono diverse possibilità di trovare un lavoro che mi piace. Tra i nuove lavori del futuro, affermo con sicurezza che sceglierei un lavoro o come big data, developer oppure progettista 3D. Sono estremamente convinto che non avrò grandi difficoltà perché fino ad ora ho studiato molto bene. Sono quindi sicuro che andrò all'università e che farò del mio meglio. Attività 3 Leggete gli annunci Si offre lavoro, contratto a tempo determinato, come social media manager in una società di comunicazione di Firenze. L'offerta è rivolta a tutti, senza limiti di età, di ambos essi, con esperienza progressa nella stessa mansione e conoscenza di almeno due lingue straniere. Gli interessati possono inviare il proprio CV direttamente dalla pagina di LinkedIn. L'azienda leader nel settore delle telecomunicazioni con sede a potenza cerca sviluppatore di app mobile diplomati o laureati per assunzioni a tempo indeterminato. La catena di abbigliamento Made in Italy seleziona e-commerce manager per il punto vendita di Bari. Si richiede flessibilità e disponibilità a lavorare su turni anche in giorni festivi. Anche prima esperienza Inviare curriculum con foto a selezione-commerce-manager-madeinitaly.com Azienda italiana di Livorno cerca progettista 3D, possibilmente madrelingua inglese, per sviluppo di un nuovo modello di nave. Si offre vitto e alloggio e la possibilità di frequentare un corso di lingua italiana. Telefonare al numero 349-1690452 Cercasi Big Data Developer con laurea di secondo livello ed esperienza nel settore di almeno tre anni, per collaborazione a tempo pieno. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Si offre contratto a tempo indeterminato e autoaziendale. Per candidarsi, inviare CV e lettera di presentazione a info-bit.it Completate la tabella. Ecco le soluzioni. Potete aprire l'esercizio con il link o scansionando il codice QR Osservate le frasi Per questo sarei sicuro che per me esistono Affermo con sicurezza che sceglierei Sono estremamente convinto che non avrò grandi difficoltà Sono quindi sicuro che andrò all'università Il rapporto tra la frase principale e quella secondaria segue alcune regole stabilite dalla concordanza dei tempi In questo caso preciso ci soffermiamo sulla frase principale con indicativo presente e condizionale presente Frase principale Frase principale Dico Indicativo presente Direi condizionale presente Frase subordinata Che domani andrà a Genova Che domani vorrebbe andare a Genova Questo è un rapporto temporale di posteriorità Che adesso va a Genova Rapporto temporale di contemporaneità Che ieri Manuela è andata a Genova Rapporto temporale di anteriorità Attività 4 Individuate il rapporto temporale tra la principale e la subordinata Potete aprire l'esercizio con il link o scansionando il codice QR Ecco le soluzioni Dice che andrebbe volentieri a lavorare come progettista 3D Posteriorità E' sicuro che Carlo ha fatto un corso da web developer Anteriorità So che tu hai ricevuto una buona offerta di lavoro in Germania Anteriorità Sono sicuro che tuo cugino scriverà un ottimo CV Posteriorità So che Francesca reagirebbe male alla notizia del tuo trasferimento in Canada Posteriorità Direi che questo non è male come primo lavoro Contemporaneità Sono certo che non hanno accettato quel lavoro come data scientist Anteriorità Ti giuro che vado a quel colloquio di lavoro Contemporaneità E' logico che saremo più tranquilli dopo aver inviato il CV Posteriorità Direi che tu hai fatto male a rinunciare a quella nuova posizione come direttore Anteriorità Studiare i verbi italiani può essere in alcuni casi abbastanza difficile Come piccolo aiuto una mappa concettuale sintetica per i tempi e i modi Qui di seguito vi presento una mappa concettuale dei verbi italiani ben dettagliata Vedete il modo dei verbi diviso in modi finiti che sono quattro Indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo con tutti i vari tempi E modi indefiniti che sono tre Infinito, gerundio, participio con tutti i vari tempi A tutti voi faccio un grandissimo in bocca al lupo per l'esame di maturità Ecco ragazzi abbiamo quasi finito Ma prima di salutarvi vi invito a fare l'autovalutazione delle vostre competenze legate ai contenuti della lezione Posso capire il testo sul mercato del lavoro e sulle professioni del futuro Posso scrivere un breve testo sulla mia professione futura Posso capire informazioni in vari annunci di lavoro Posso individuare il rapporto temporale tra la principale e la subordinata La lezione finisce qui, arrivederci alla prossima lezione